Gesù fra i dottori 12 anni la sua mamma e il suo papà, come bravi giudei che si rispetta, andavano fino al dom della città per fare una Pasqua proprio benedetta. Qualche signore l'ha compito due anni e Giuseppe l'ha detto «Il figlio è quasi un uomo, l'està sia fa pur del l'ultimo dell'anno, bisognerà menare la veder il dom». Inci, l'ha portato il fio a Gerusalem e la fa Pasqua in quel sit consacrata, la vista elevale che può al momento suprême della sua morte e cessaria sferla. Quando l'ha finita la benedizione, senza manca passa iubai iubai, Giuseppe è setta cano a procession di Nazarene e di Alte Galilèi. E se fulano un salmo in compagnia e ci c'erano di quando era un coscritto, anta canta su strada Samaria, mi quel papà poste e ti tegei passi. La Madonna, pissata una candela all'altare dell'Arcangelo Gabriele, la saluta a una veglia parentela della sua mamma, e poi, senza savela, la senna che è sognata di informarsi se il fio l'era già mort con son mari. E l'è partita senza slungare il pass anche se l'era ormai passame sdì. Tucci si ferma a una specie di restauce che nulleggiava i tenti per una notte a due sesterzi e messe. Giuseppe la trova e capisce bene a Gott. Santa Madonna, il fio è due l'è andata! E mi è sicura che le racconti! Ma veste Giuseppe sta minga in bambù là! Guarda se il gatto è andata a fare rapi! Ma vabbè, cosa ti vuoi che capiscono in fin di conto le fiole per la gente? Sti bagai? È impossibile che capiscono! Ti, ti potevano minga stare garanti! L'era la prima volta già che loro si portavano a spazio del fiole in città, perciò sapevano che Rischi si cura quando su un quei cosi si si cura. Se può avere tanta feta con i munchi, se può fare Pasqua e ciappare l'indulgenza, ma niente potrà mai sostituire il pestel nas sul mur dell'esperienza. Per tornare ai fatti, esso che tramontava, gli ha deciso di tornare alla capitale. La Maria Driel Giuseppe la tapasciava, compagno che la coressa all'ospedale. Alla mattina presto, loro erano là a domandare ai baristi, ai fiole, ai strachè. E visse di volte un fiole alto in scia girare, cercando la mamma o il papà in legna a me. Non fa passare i negozi, i sacristi, i cantini, i sore e tutto il mercato. Non, senza sperare a cercare, senza irrabi. Non, senza irrabi. Non, senza irrabi. Non, senza irrabi. Ma, senza irrabi. Non, senza irrabi. Non, senza irrabi. Non, senza irrabi. Per la gioia il gavispeu, l'attacai l'Itania. Madonna santa, Cristo debù, l'è proprio il nostro Gesù. La Madonna tremante commossione, l'aggadi al fio. Cosa t'è venuto in mente? C'è un tasse tremisi. Sacra nulla, t'è che ne proprio no de sentiment. Lettri di che te cercano di perdere, sapevano non capire cosa pensavano. E il signor ha risposto, «Ma dopo tutto, gavivo un tempo. Cosa mi cerchi di fare? Sapevano mica che sono venuti al mondo per fare la volontà santa del padre? Quanti volte ve lo dì, bel c'ha rettonti, che l'è per questo che lui è la Madonna Mader. La Madonna Giuseppe, lì sul momento, pudeva in minga capire il tuo parlare, ma dopo, in stacchietto, e ricontente che da quel dì il fio, il ghe dava a trà. Gesù intanto si faceva un gioinotto, l'era bella, savi, e peu, di pasta buona. Il tempo che andava senza di nagote, il ghe scolpiva il chèo alla Madonna. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori.